che lo è, è così, speriamo va bene, io ti ringrazio, vi auguro una buona serata e grazie a tutti, alla prossima grazie a te, grazie a te allora, adesso un altro cantante, giustamente si sta preparando, ma io questa sera ho cardo vorrei, se permettete di togliermi la camicia perché fa veramente cardo e voglio presentare questo questo no, questo cantante un amico, un fratello ma forse di più di un amico ah, è la maglietta mi ha fatto un regalo e io lo voglio indossare qui questa sera naturalmente la serata non è sua, di Orazio Parfumi è di tutti, però me l'ha regalata ha detto, Ivan, mettila alla prima occasione quando faremo uno spettacolo insieme, bene Orazio non è un tuo spettacolo, è di tutti ma io lo volevo fare lo stesso siccome noi lavoriamo molto spesso insieme appunto comunque un applauso grande, Ivan De Curti ma figurati, naturalmente è una moda che stiamo lanciando chi volesse chi, quale cantante volesse che io portassi la camicia con suo nome non ha che da dirlo la prossima che porterò sarà quella di Nilo Marchi mi sembra mi sembra la tua ma perché no? anche per il somato il per il somato lo porterò tu fammelo fare con Francesco Mirabella, eccetera, eccetera lo metterò di dietro wow di dietro un filo che c'è a metri che c'è a scrivere wow allora Orazio Perfumi spero ti sia piaciuta la sorpresa perché tu l'avevi commissionata sei grandissimo posso dare un bacio? ma lui l'aveva commissionata l'ha portato qui dove la stampano non pensando che fosse pronta sono andato a ritrarla quindi chiedo scusa magari se qualcun altro ci è demasto male abbiamo un bel rapporto lavorativo me l'ha promessa e io l'ho indossata tutto qui nessuno ci rimanga male grazie grazie vai il nostro pubblico questa canzone la dedico a The Cultis grazie alla famiglia Perfumi e a tutti voi la canzone che sta andando molto bene molto ascoltata perdoni la dedico a tutti voi dai oh 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 Ma rimanca a te, un cambiamento naturale, capito di rete, di me senza limiti, sta lasciando dentro me, te ne vai, e io pago un prezzo speciale, amando ti un po' di più, te ne vai, lasciandomi solo a capire dove ho sbagliato con te. Ehi, perdonami, se io ti ricordavo ad ogni cantito, se solo con la testa tra le nuvole, se a posto di una stella ho messo con te. Ehi, perdonami, se sono diventato un romantico, solito ascolti un eco, mare d'amora, se ogni mio pensiero ci sei tu. Grazie! Francesco! Dove andrai, se voglio incontrarti sul mare, dimmi dove andrai, e se lo vuoi, il tempo si ferma stasera, oggi e domani per me. Per due anni, se basta un tuo sorriso, spesso affrendermi, se non sei diventata un'abitudine, se ho spesso tutto il mondo dentro di me. Per due anni, se lo vuoi, il tempo si ferma stasera, oggi e domani per me. Per due anni, se lo vuoi, il tempo si ferma stasera, oggi e domani per me. Per due anni, se lo vuoi, il tempo si ferma stasera, oggi e domani per me. Per due anni, se lo vuoi, il tempo si ferma stasera, oggi e domani per me. Io ringrazio tutti i miei amici incantanti che hanno risposto positivo al mio invito. Grazie a Orazio Pafumi, Gabriele Vestace, Gabriele Ibiza, Maxi Conti, Buzio La Rosa, l'altro amico Davide Rezzi. Voglio fare un ringraziamento tantissimo. Santo Napoli. Un applauso a loro, gli hanno accettato il mio invito. Raimondo Zuccarache, l'abbiamo conservato come l'estratto di pomodoro. No, no, Raimondo, a Napoli dicono per i ragazzi come Raimondo, tiena ucci un goppa. E se come Raimondo viene a ucci un goppa, lo facciamo cantare per ultimo? Tieni. Adesso mettiamo invece una canzone che nel primo album è andata molto bene, dal titolo Sin Nera Nera. Dai, su le mani! Dai, su le mani! Dai, su le mani! Dicono l'alma d'on nachia, no non devo enamorare. E se canfres per la tua età, perché tu e sorandaliare. No non devo ara, e tirare. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti